La francese mi ha un po' affondato e io comunque ho cercato il prima possibile di toccare il tabello d'arrivo ovviamente perché comunque sapevo secondo e terza di essere arrivata, non volevo essere delpata di nuovo l'altra volta. Abbiamo lavorato tanto già negli anni passati e quest'anno però ci siamo concentrati molto anche sulla parte finale visto che l'anno scorso mi è mancato un po' lo sprint e quindi sì, abbiamo lavorato molto per ottenere questa medaglia. Io ce l'ho sempre vissuta naturalmente senza problemi, lo stanno tutti, non l'ho mai fatto però autentro, non cambiamo molto. No, su questo c'è il senso, credo che ci vuole parare nello sport. Sì, no, ovviamente ci sono persone che magari ne ancora hanno i pregiudizi però io vivo serena e tranquilla, non penso ai pregiudizi, vivo per me stessa, vivo per la mia passione nuoto e alle persone che mi vogliono bene.